Allora questa qui è Paola Isabello, siamo qua per discutere come dicevo dell'ultimo tema di questo nostro progetto che è andato avanti per un paio di mesi e questo è il settimo tema e come ultimo tema e quindi quello che vorremmo cercare di capire insieme tra noi come equip ma anche un po' insieme a voi che cosa farcene di tutto questo lavoro che abbiamo fatto e quindi il nostro futuro parte proprio da oggi dove c'è la conclusione di quello che sta succedendo adesso ma anche perché un po' come si dice per ogni fine corrisponde un nuovo inizio e quindi noi ci stavamo un po' chiedendo che tipo di futuro possiamo immaginarci noi abbiamo pensato a noi stesse, a noi stessi come equip, come progetto però anche a livello più allargato forse è un tema su cui è importante provare a fermarsi e riflettere in questo momento qua perché arriviamo da una situazione che ci ha messo fortemente alla prova che in qualche modo ha minato tutte le nostre certezze sempre che prima ce ne fossero così tante, per carità viviamo in un mondo molto incerto però chissà come questa pandemia, la quarantena ha influito sulla possibilità di ognuno di noi e di immaginarsi un futuro, è ancora il futuro che ci immaginavamo prima anche di scegliere mi viene da dire, nel senso che eravamo abituati a scegliere in una certa maniera a un certo punto ci è stata tolta la possibilità di scegliere per tutelarci tutto quello che vuoi ma adesso che è ora di scegliere non c'è più tutta quella possibilità che avevamo prima di diciamo gennaio e della quale forse non ci rendevamo neanche tanto conto sostanzialmente quindi adesso tutto ricomincia ma ricomincia come e quindi anche questo, è possibile immaginarsi un futuro come ce lo saremmo immaginato a gennaio o c'è qualcosa di diverso? Ma sicuramente secondo me ci possono essere un po' due forse macro orientamenti non lo so, da un certo punto di vista quello che è capitato può essere l'occasione per ripensare completamente al proprio futuro nel senso che forse abbiamo avuto la possibilità e ve l'abbiamo anche chiesto di fermarsi un po' a pensare a questo momento, a chi siamo e a chi vogliamo essere e quindi questo fermarci a pensare, questa situazione così strana ci dà la possibilità di ripensare completamente a un futuro pieno di possibilità nuove e ne immaginate dall'altra parte però forse ha messo anche in campo un po' di paure un po' di angosce rispetto a questo futuro chi lo sa, non ci appare più così certo abbiamo paura magari anche solo a uscire in strada, a uscire di casa oggi, domani e chissà se ce la facciamo proprio immaginarci un futuro anche più lontano nel tempo considerato per esempio che i ragazzi già solo in questo momento non sanno neanche se e come torneranno a scuola e come finirà la scuola anche Ah sì, beh, è vero, ancora prima, assolutamente sì sono davvero tanti gli interrogativi su questo futuro D'altra parte qualcosa anche che c'è di nuovo in qualche modo è anche la possibilità di fermarsi ci siamo dovuti fermare un po' tutti e fermarsi a volte serve anche per riuscire a fare un pensiero su quello che è il nostro andamento cioè quello che cosa stiamo facendo in questo momento se ci piace, non ci piace non so se era la Montalcini che diceva che ogni volta tu hai la possibilità di verificare se quello che stai portando avanti è il progetto che ti piace oppure puoi cambiarlo a volte abbiamo l'impressione che il nostro futuro sia dettato da una regola che abbiamo preso da un'abitudine magari anche da un modo di essere che in qualche modo ci porta avanti un po' come le maschere di tirandello piuttosto che i nostri ruoli in generale in questo periodo che è stato considerato dalle colleghe di ieri come un periodo di convalescenza è un periodo in cui noi possiamo anche cercare di interrogarci un po' facevamo un pensiero sul fatto che c'è un libro di Cognetti dove racconta che il futuro non è davanti a noi se pensiamo di stare in un fiume non è nell'acqua che in qualche modo va verso valle ma è l'acqua che arriva da monte quindi teoricamente dalle nostre spalle perché è da lì che arriva i rametti, le foglie ma anche il cibo per le trofe sostanzialmente il nostro passato quindi è qualcosa che probabilmente ha molto più futuro di quello che immaginiamo e noi siamo nelle condizioni forse in questo momento di poter anche vedere se il nostro passato ci serve ancora per com'era se come siamo stati vale ancora, è ancora valido oppure possiamo pensare anche a una nuova opportunità in qualche modo e a volte questo è possibile solo quando ci fermiamo Sì, aggiungerei questo che secondo me un altro aspetto importante che ci ha un po' portato questa pandemia è stato il farci vedere come siamo tutti fortemente interconnessi quindi come le scelte di ognuno le azioni di ognuno, i desideri di ognuno in qualche modo abbiano un forte potere di azione di cambiamento rispetto alla collettività purtroppo ce l'ha fatto vedere in un modo non positivo però in un'ottica di, se lo pensiamo in prospettiva in realtà ci mette di fronte forse ha un dover magari acquisire un po' più di responsabilità rispetto anche alle scelte che facciamo al tipo di futuro che vogliamo costruire per noi perché il tipo di futuro che vogliamo costruire per noi in qualche modo andrà anche a incidere rispetto al futuro della società della collettività e quindi sicuramente è un'occasione abbiamo visto già negli ultimi tempi ancora prima che arrivasse la pandemia per esempio il movimento Friday for Future esatto il mio inglese e secondo me quello è un ottimo esempio di scelta collettiva da parte dei ragazzi che ha portato a una forte presa di posizione e sensibilizzazione anche delle istituzioni più a livello globale quindi non so se questa anche possa essere un'occasione per ancora di più fare delle scelte che portino a un futuro diverso anche per il mondo questo ci restituisce anche un po' un senso di prima di tutto di appartenenza al mondo in qualche modo quindi le mie scelte andranno a ricadere su tutti però anche un po' un senso di responsabilità e non di passività come forse abbiamo anche in qualche modo percepito in questi mesi la nostra passività stava nel far decidere gli altri che cosa dovevamo fare stare a casa eccetera eccetera però forse qualcuno di noi si è sentito un po' passivo su questo punto di vista quindi non è capace di cioè è proprio impossibilitato a prendere in mano la propria vita forse prendere in mano la propria vita adesso dipende anche da questo dal poter fare delle scelte che sono relative a se stessi ma anche relative a un aspetto più globale fondamentalmente mi viene in mente l'hashtag andrà tutto bene fin dall'inizio della pandemia l'hashtag di riferimento è stato andrà tutto bene quindi un hashtag che introduceva il tempo futuro secondo me possiamo veramente chiederci ok allora come potremmo fare a fare in modo che le cose vadano bene come tutti potremmo contribuire a fare in modo che andrà tutto bene perché è una responsabilità anche un po' comune forse andrà tutto bene era quasi magica come formula era una formula di cui si aveva bisogno nel momento in cui non si capiva niente di quello che stava succedendo e aveva un senso legato all'essere proprio nelle mani nelle mani dello Stato, nelle mani della sanità eccetera mentre adesso cerchiamo di capire noi che cosa possiamo fare perché vada tutto bene ma quindi che cosa chiediamo questa settimana? qual è la domanda che lasciamo? qual è la domanda che lasciamo? ma io la domanda la farei proprio un po' sul futuro quindi vedere un po' prima di tutto come lo vedete questo futuro è un futuro già la fase 2 a parte del futuro nel senso che è una fase che vi piace o non vi piace di questo che ne abbiamo già discusso però nel frattempo le cose cambiano quindi il vostro futuro è qualcosa su cui si può sperare cosa posso fare io di persona mia per sentirmi come appartenente diciamo a questo mondo in qualche modo e quindi responsabile, corresponsabile nella gestione del futuro e cosa posso fare io per me stessa in qualche modo quindi anche riguardo al mio essere andava bene così, quello che succedeva a gennaio voglio restare come nell'epoca posso pensare di cambiare delle parti di me questa forse è anche l'occasione per farlo quindi chissà se hanno voglia di raccontarci anche questo quindi un'idea di futuro che conciglia il desiderio e la responsabilità in qualche modo che futuro desiderate? e come cercherete di raggiungerlo? bene, queste sono le domande che vi lasciamo naturalmente in settimana usciranno tantissime suggestioni e vi chiediamo se vi va di darci una risposta, commentare e come al solito potete farlo o mandandoci una mail all'indirizzo keepthequarantine.com oppure scrivendoci in privato qua su Instagram piuttosto che taggandoci anche con gli hashtag kickthequarantine e l'hashtag back to the future quindi aspettiamo le vostre risposte perché siamo davvero curiosi di sapere un po' qual è il vostro immaginario del futuro io vi saluto e cerco di uscire da questa diretta ci proviamo questa diabolica faccenda poi ci farete un corso ah fuck